E' la storia di Daniel Sento sulla fede, sulla testa, una sola d'assegno di quello che vi ho da qualche tempo. Eppure, più sopra l'ha reso, spesso sconteso, ho la sensazione di esserlo inteso. Vedete, troppe situazioni di questo, di esser di peso. Devo aprire la mia dica, su me e te gli ho bastato con il piano di esser nato. Oddio, oddio, cammino a forza, per continuare a fare più di una volta. Ho toccato il fondo, non sbaglio a Dio, quanto sia profondo. Ho toccato il fondo, non sbaglio a Dio, il fondo, non sbaglio a Dio. Anderai! 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 La vita! Mi sta presentando il conto! A volte è come l'andena di un ragno! Se potessi, cancellerei tutti i miei problemi! Con le bandini! E pur sempre che devo agire! E sempre devo dire! Dove? Dove? E dove le bandini? Yes, yes, yes! Anderai! Grazie! Grazie! Alla prossima! Non so come il drogo, ma so che speranza, ho capito, sono prigioniero di questa stanza, ho capito, deve essere il conto della tazza, non sono un bersaglio mobile. Grazie.